Musica Nel corso della seduta dell'odierna conferenza dei capigruppo sono stati auditi i rappresentanti dei medici di guardia in merito al recupero delle somme che la Regione Abruzzo ha disposto in seguito ad un pronunciamento della Procura della Corte dei Conti. L'assessore alla Sanità Paolucci è intervenuto chiarendo la posizione dell'esecutivo e prospettando due possibili vie di uscita alla problematica. Si è chiarito con due pareri dell'Avvocatura regionale che l'azione di recupero è un atto dovuto della Giunta e non una scelta della Giunta regionale. Inoltre il secondo parere dell'Avvocatura è giunto al termine di una richiesta circa la risoluzione del Consiglio. Quindi nessuno può fare propaganda elettorale dicendo che con quella risoluzione si può e si deve sospendere l'attività di recupero perché è impossibile. Ci sono pareri legali in tal senso. La Giunta regionale ha proposto ben due vie di uscita. Intanto sta siglando un accordo con le segreterie regionali sindacali dei Medici per attivare una contrattualistica a livello decentrato nelle aziende e recuperare esattamente le stesse somme per il futuro ovviamente in modo da adeguare legittimamente il contratto collettivo regionale, l'accordo integrativo regionale. In secondo luogo la Giunta ha proposto che possa disciplinare sul punto, normando ovviamente la questione, il Parlamento nazionale.